Tutto pronto nella Asla Toscana Sudesta per partire con la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid-19. La quarta dose è stata prevista per alcune categorie, gli ultraottantenni, le persone fragili che hanno patologie e che hanno più di 60 anni e gli ospiti delle strutture residenziali per anziani. Occorrerà però che siano passati almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose e dal momento sono esclusi coloro che hanno contratto il virus dopo la prima dose di richiamo, ossia i booster. Nel territorio della Asla Toscana Sudesta si tratta di una platea potenziale di 62.360 over 80, 24.766 ad Arezzo e 16.719 over 60 fragili, 8.281 nell'Aretino. La vaccinazione può essere eseguita dal medico di famiglia, dalle farmacie convenzionate oppure prenotandosi nei nostri centri vaccinali del Dipartimento della Prevenzione tramite il portale regionale PrenotaVaccino. La prenotazione sul portale permette anche di dichiarare l'impossibilità a muoversi attivando così di conseguenza la vaccinazione a domicilio. Resteranno comunque attivi tutti i punti di vaccinazione permanenti sul territorio. Abbiamo un centro qui ad Arezzo in località Ceciliano presso il distretto sociosanitario, abbiamo altri centri, uno a Bibbiena al poliambulatorio in via Colombaia, abbiamo un altro a Sansepolcro in via Santi di Tito sempre presso il distretto, abbiamo un centro a Camuscia alla Casa della Salute e al distretto di Montevarchi. Da venerdì 15 aprile infine inizieranno le vaccinazioni nelle prime 4 RSA dell'area vasta, una di queste è in provincia di Arezzo, si tratta di Leprimula a Camuscia.